Il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau è intervenuto questa mattina a Cagliari al sit-in di protesta organizzato dal Comitato No Nucleo No Scorie sotto i portici di Via Roma. Sono qui per ribadire il nostro no assoluto all'ipotesi che la Sardegna possa essere individuata come sito per il deposito unico delle scorie nucleari, perché su questo si sono già espressi i sardi e si è espresso più volte chiaramente anche il Parlamento sardo. Non credo, aggiunto Ganau, ci sia alcun dubbio sulla volontà espressa dall'Assemblea sarda anche di recente e di respingere con forza ogni ipotesi a riguardo. Ribadisco la massima contrarietà del Consiglio regionale a ogni ipotesi di individuazione di siti nel nostro territorio. Se ci sarà anche solo un tentativo di portare un deposito di scorie nucleari in Sardegna, ha concluso il massimo rappresentante dell'Assemblea sarda, sarò pronto a incatenarmi con voi. È un impegno che presi pubblicamente nel 2015 e che intendo mantenere qualora fosse necessario, perché sono assolutamente convinto, ha concluso Ganau, che la Sardegna abbia dato anche troppo in tema di servitù e questo non può più essere consentito.